124 donne uccise nel 2012, la gran parte di queste è per mano di un ex marito o ex compagno. Tragedie quotidiane di amori che finiscono nel modo peggiore, storie che colpiscono anche se vissute da lontano. Paolo Pandini è uno studente dell'Accademia Belle Arti di Venezia, è uno di quei giovani che ha seguito le storie di queste donne uccise e ha deciso di realizzare un video sui femminicidi, che sarà il primo protagonista della nuova rubrica di Antenna tra i giovani talenti, dedicata appunto a quei giovani che hanno qualcosa da raccontare. L'idea di Paolo, vincitore qualche anno fa della nostra rubrica UTG con un video tutto realizzato da lui, nasce dopo aver letto il libro del giornalista Riccardo Iacono, pagine che toccano nel profondo. Paolo, che prendendo spunto dalla campagna Stop Femminicidio Io Ci Metto la Faccia, lanciata su Facebook dalla rete degli studenti veneti, realizza insieme ad altri tre compagni di corso il video Violenza sulle donne, storie fuori fuoco. Abbiamo deciso di realizzare un video, un filmato, per parlare di questa tematica e siamo partiti da loro con delle interviste tra le ragazze della rete e poi abbiamo preso i contatti col telefono rosa di Treviso, che lavora ormai da 25 anni sulla tematica della violenza e abbiamo avuto un'intervista anche con loro e abbiamo realizzato questo filmato. Una ventina di minuti durante i quali ci saranno i racconti di tre ragazze che hanno lanciato la campagna su Facebook e poi la testimonianza della vicepresidente del telefono rosa di Treviso. Il video è già stato messo in rete, ma l'obiettivo è quello di diffonderlo il più possibile. Abbiamo intenzione di portarlo anche in scuole e farlo vedere appunto perché è un argomento di cui si parla poco e di cui non c'è e soprattutto è bello vedere come i ragazzi si interessino a questi argomenti. Il video integrale andrà in onda stasera alle 20.10 su Antenna 3 nella prima puntata della nuova rubrica Giovani talenti.